Buonasera a tutti. Onorevole, che cosa le è sembrato questo battibecco tra vertici della vigilanza? È qualcosa che poi alla fine può quantomeno in parte ristorare chi ci ha perso dei soldi o siamo all'aria fritta? È un teatrino assurdo che in qualche modo conferma ciò che il Movimento 5 Stelle aveva detto fin dall'inizio, che le autorità di vigilanza erano presiedute da persone quantomeno inadeguate e che i vertici dovevano essere cambiati tempestivamente, non sotto campagna elettorale, per strumentalizzare la tragedia dei reati bancari che si è abbattuta sulle spalle dei risparmiatori e farne motivo di campagna elettorale. Se questa commissione fosse partita dal primo giorno di legislatura, come il Movimento 5 Stelle ha chiesto fin dall'inizio, a quest'ora avremmo avuto circa 200 mila risparmiatori risparmiati, in questo caso, scusate il gioco di parole, e almeno 5 miliardi di euro dei residenti ancora nelle casse dello Stato. Beh, è partita fuori tempo massimo, quindi si farà quel che si potrà fare fino alla fine. Noi abbiamo chiesto di lavorare anche il lunedì e il venerdì, quando invece il Presidente Casini ritiene di non dover far lavorare la commissione. Noi vorremmo lavorare anche di sabato, di domenica, anche di notte, anche a Natale. Quindi per il tempo che rimane noi siamo a totale ed assoluta disposizione, perché è importantissimo fare luce su chi è stato responsabile di questi disastri e soprattutto sulla tutela del risparmio, cioè i risparmiatori quando entrano in una banca devono sentirsi al sicuro. E in questo momento, con questa situazione così opaca e con le autorità di vigilanza gestita in questo modo e appoggiata da una certa mala politica, sicuramente non è al sicuro il sistema bancario e quindi la fiducia nei risparmiatori non ci può essere in toto. È chiaro. Per cercare di capire che cosa poi dopo cambia per chi ci ha perso i quattrini, andiamo da chi ne ha persi, anche molti purtroppo, Barbara Venuti, che è già stata da noi ospite, una piccola azionista della Banca Popolare di Vicenza, anche portavoce dei piccoli azionisti per Feder Consumatori. Benvenuta. Dicevo, ieri ho assistito al live della Commissione ed è stato un teatrino penoso. Mi domando a questo punto, dato che Aponi sostiene che la Kosovo ha dieci giorni per verificare le irregolarità comprovate da Banca d'Italia, come possiamo aspettarci noi da questa parte che la Commissione da qui a Natale risolva 17 anni di fatti assolutamente eclatanti. Oltretutto, il fondo noi lo chiediamo da un pezzo, noi... Adesso ci arriviamo. Lei quindi sarebbe assolutamente d'accordo, immagino. Ma mi spieghi prima, lei, sappiamo, ha perso intorno ai 170.000 euro, ha già ricevuto indietro qualcosa, è nella situazione in cui non riceverà più niente. Se venisse veramente istituito questo fondo, di cui abbiamo parlato anche nei nostri titoli, le cambierebbe qualcosa? Ma allora, io se avessi accettato la transazione proposta tra gennaio e marzo, avrei ricevuto un controvalore di circa 3.000 euro al pari dei 150-170.000 persi. Quindi a mia madre la vita non gliel'avrebbero cambiata. Per quanto riguarda le subordinate, per fortuna è uno strumento che non era nel mio portafoglio titoli, il fondo interbancario si sta facendo sentire ora per quanto riguarda i rimborsi, e per quanto riguarda invece il fondo che ha stanziato ora intesa di 100 milioni, ha prefissato dei limiti reddituali che sono assolutamente ridicoli. Quindi chi ci rientrerà probabilmente è il pensionato di 80 anni. Onorevole Ruocco, ma intanto durante le prove testimoniali si è tenuto un lungo dibattito anche sul discorso che determinati titoli tossici sono stati venduti alla clientela retail, quindi a persone, risparmiatori inconsapevoli al banco per capire, e nell'economia di un prospetto informativo cui erano state sottratte delle informazioni fondamentali, i cosiddetti scenari probabilistici, che avrebbero dato una spia a un semaforo rosso-giallo-verde, di fatto, alle persone che velocemente spiegano più o meno quanto è rischioso. a queste paginate, esatto. Perché la Consob ha smantellato, come d'altra parte la Banca d'Italia, ha fatto piazza pulita di tutti quei dirigenti che facevano sorveglianza anche sui prodotti che dovevano essere venduti al banco? Ecco, e perché si riesce, e questo è stato, attenzione, i prodotti tossici, compreso le subordinate, erano ad alto rischio, pensi che quelle di Etruria, se ci fossero state queste informazioni, i risparmiatori avrebbero potuto constatare che per il 60% delle probabilità avrebbero potuto perdere tutti i loro risparmi. Secondo lei, chi li avrebbe comprati, quei prodotti, se la signora avesse potuto controllare l'effettivo rischio? Dalle audizioni è emerso addirittura che i prodotti ad altissimo rischio sono stati venduti a persone che purtroppo non hanno la terza media, ma non uno, decine di migliaia di quelle persone. È il vero problema. Allora, qui non ci sta poco da andare a riscontrare se la vigilanza ha fatto o non ha fatto il problema. Alessandro Barbera chiedeva la parola, ne ha facoltà. No, volevo dire, se l'onorevole Ruocco non se ne ha male, che il suo intervento dimostra il fatto che siamo già in campagna elettorale e che non si può più parlare di questo argomento in maniera seria. Lei cita la questione degli scenari probabilistici perché cita il caso di un ex assessore del Comune di Roma che lavorava la Consob e feceva esattamente quel mestiere. Gli scenari probabilistici, lo dicono tutti gli esperti di questa materia, avrebbero solo complicato ancora di più quei prospetti. Non erano i scenari probabilistici il problema. Il problema era la governance di banche. Questo è emerso dall'audizione, non lo sto dicendo io, forse non ha seguito l'audizione di ieri, ma anche lo stesso dottor Apponi ha dovuto ammettere che sono state eliminate determinate informazioni. Io non ci posso fare nulla se tutti i rischiosi sono capitati alla clientela e l'ha detto anche il dottor Apponi. Lei adesso mette in mezzo il Comune di Roma, ma guardi mi sembra veramente pretestoso tra le autorità di vigilanza andare a prendere il Comune di Roma. Non c'entra nulla, ma cosa c'entra il Comune di Roma e gli ex assessori, ma è lei che è in campagna elettorale, mi scusi. Chiaritevi senza sovrapporvi. Non c'entra un interrogatorio. No, guardi, qui si tratta di una questione di serietà. Io sono una persona seria. Tra l'altro anche Draghi, non solo Apponi, ma anche Draghi... Onorevole, diamo la possibilità a Barbera di chiarire che cosa voleva dire e poi fra l'altro parleremo anche di Draghi. Purtroppo il nostro tempo è finito, che è il convitato di Pietra, perché... Non soltanto Apponi, anche Draghi deve dare qualche spiegazione sulla vigilanza della Banca d'Italia e sul fatto che ha fatto fuori alcuni dirigenti. Barbera, e poi dopo Marazzino... È vero che la Consob di Vegas ha smantellato quell'ufficio. È vero che a capo di quell'ufficio c'è la dottor Minenna, che è vicino al Movimento 5 Stelle. Non è vero... Non sappiamo quanto lo sia, perché poi si è andato, diciamo, non esattamente... Cosa c'entra? Che i prodotti da banco dovevano essere venduti ad alto rischio? Scusi, quindi significa che per questo fatto... Non è vero... Non è vero... Sono utilizzati anche dalle banche per gestire il prezzo dei prodotti finanziari. È vero... Sono utilizzati dalle banche esterne. Però è vero... Che sta dicendo? Ho il timore che non dichiarirete durante... Scusi, qua sto parlando degli amministratori, nei confronti dei quali debbano essere sicuramente inasprite le sanzioni in caso di malattie. Il governo che ha fatto quelle sanzioni... Allora, Maratin, la prego... Il governo che ha fatto quelle sanzioni, vado a fare campagna... Maratin, Ruocco, grazie ad Alessandro...